Allora voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del Meet Sloan Management Review intitolato There actually is an I in team, ovvero esiste veramente un io, cioè un me stesso, diciamo una dimensione individuale nel team. Questo è l'articolo di Elad Scherf Subra Tangirala Alex Ningli. Gli autori, sottotitola Research, shows that when dealing with fundamental change, teams that retrain individuals before focusing on collaboration have better results. Ovvero la ricerca dimostra che quando si si trova di fronte a cambiamenti essenziali nell'azienda, i team che danno maggiore attenzione alla risposta da parte degli individui hanno una maggiore capacità di collaborare, di avere buoni risultati rispetto invece ai team che partono dalla collaborazione. Ovvero qui gli autori propongono sostanzialmente un confronto tra due modelli. Il primo modello è quello tradizionale, diciamo, nel quale nella valutazione di un team si fa in modo, si cerca di fare in modo che tutte le persone che fanno parte appunto di un team collaborino, cooperino tra di loro e si chiede appunto di fare degli sforzi di collaborazione nel cambiamento tecnologico. Quindi c'è un cambiamento tecnologico e si chiede al gruppo, al team di adattarsi a questo cambiamento tecnologico. Diverso è invece la risposta di chi dà attenzione agli individui, perché all'interno di un cambiamento tecnologico si dice agli individui guardate, dovete stare attenti, dovete perfezionare le vostre skills, dovete incrementare il vostro knowledge, dovete migliorare le vostre performance tecnologiche per poi successivamente collaborare. Quindi si offre, diciamo, un doppio timing. Una prima fase consiste nel miglioramento, nel perfezionamento di quelli che sono le skills individuali ed una seconda parte invece consiste nel fare in modo che gli individui così reschillati, cioè con queste nuove competenze possano entrare a far parte del gruppo affrontando con maggiore efficienza la sfida del cambiamento tecnologico. Questa è l'idea, diciamo, degli autori. Gli autori hanno testato quest'idea in un case study. Il loro case study riguarda un'azienda che opera nel settore dell'assemblaggio di dispositivi elettronici dove ci sono dei team interdipendenti sulla linea di assemblaggio, quindi in pratica una catena di montaggio. E a un certo punto si introduce all'interno di questa catena di montaggio un cambiamento tecnologico lo dicono gli autori fondamentale, quindi diciamo un cambiamento strutturale. Per esempio può essere un braccio robotico o una macchina automatica che vengono utilizzate per migliorare il processo di assemblaggio. E queste innovazioni vanno a sostituire una serie di compiti, di competenze che precedentemente venivano svolte a mano dalle persone. Ora è chiaro che questo cambiamento che si verifica attraverso per esempio l'utilizzo di bracci robotici crea uno spazio molto ampio per gli operatori che possono quindi dedicare le proprie attenzioni e le proprie energie allo svolgimento di compiti che sono più complessi come per esempio il controllo di qualità o l'ottimizzazione del processo. Però bisogna che comunque i nuovi lavoratori si conformino ad un cambiamento dell'ambiente ad un nuovo ambiente, quindi hanno bisogno di imparare individualmente come operare e mantenere un sistema automatico mentre imparano a coordinare in un modo differenziato come gruppo. Quindi c'è una doppia funzione. La prima consiste nel fatto che gli individui devono adattarsi al cambiamento tecnologico e in secondo luogo dopo essersi adattati individualmente al cambiamento tecnologico quindi questo significa apprendere nuovi modi di fare, di svolgere task e nuove conoscenze e in seguito ricostruiscono dei team, dei gruppi. Ovviamente c'è bisogno quindi che si creino delle nuove regole, c'è bisogno di ripensare l'intero sistema della collaborazione e i datori di lavoro devono essere molto attenti nel promozionare queste organizzazioni avendo attenzione per le strutture funzionali e per il fatto che c'è bisogno di offrire appunto conoscenza relativa a come queste nuove tecnologie vengono impiegate. Le autori hanno affrontato questo tema in un articolo che hanno scritto su una rivista denominata Organization Science e sottolineano che in realtà molto spesso i leader non prestano molta attenzione a quelle che sono le metodologie, le modalità che possono consentire agli individui di fare il re-skill, cioè di ridisegnare le proprie competenze durante un processo di cambiamento tecnologico. Invece, al contrario, i leader si focalizzano sul team come un gruppo nel suo complesso, cioè non riescono a guardare a quelli che sono i contributi individuali, quindi anche le difficoltà che magari gli individui possono affrontare, che sono magari diverse per formazione, età e caratteristiche personali, nell'affrontare il processo di trasformazione tecnologica. E ovviamente ci sono dei vantaggi, dicono gli autori, quando invece al contrario si sceglie di basare l'intera operazione di re-skilling sulla dimensione individuale e fare in modo che questa sia una priorità, perché in questo caso è possibile, diciamo, migliorare la performance complessiva. E qui ci c'è proprio un caso, il loro case study. Il loro case study che dimostra proprio questo, e cioè che se il team leader presta attenzione alla difficoltà e alle problematiche che gli individui all'interno di un team devono affrontare per fare il re-skilling delle nuove competenze in presenza di una trasformazione tecnologica strutturale, allora ottiene il team leader una crescita della produttività assai più significativa rispetto all'ipotesi avversa, cioè quella nel quale il team leader si sofferma sul gruppo come un insieme senza andare nel dettaglio di verificare come gli individui reagiscono alle nuove tecnologie. Quindi si fa il caso di un'azienda cinese che opera nel settore elettronico con 10.000 dipendenti, con 116 team di produzione che sono stati seguiti in diversi mesi. Quindi questi team hanno dovuto affrontare tutti quanti un radicale fenomeno di avanzamento tecnologico che ha introdotto all'interno dell'azienda nuovi strumenti e nuovi processi di produzione. Generalmente la produttività di questi gruppi era del 99,5% in termini prima dell'introduzione delle nuove tecnologie e dopo alcune settimane dell'introduzione di queste tecnologie la produttività è diminuita significativamente fino al 93,82%. Dopo aver controllato e fatto degli studi, gli autori scoprono che quei team leader che hanno dato maggiore riconoscimento alla capacità degli individui di acquisire nuove competenze hanno performato del 12% meglio rispetto agli altri team che invece si sono confrontati, diciamo che invece hanno proposto soltanto un miglioramento del coordinamento collettivo cioè senza prendersi, come dire, senza farsi carico delle questioni individuali all'interno dei gruppi. Alcuni mesi dopo la produttività, diciamo, comunque di tutti i team è cresciuta fino ad arrivare al 96,95% o comunque inferiore rispetto a quella precedente e viene comunque rilevata una grande varianza in termini di produttività rispetto a dei team che hanno riconosciuto la componente individuale rispetto ai team che invece hanno semplicemente puntato sul coordinamento collettivo. E sostanzialmente quello che è stato, che si è verificato è addirittura dopo alcuni mesi che l'attenzione all'acquisizione di nuove competenze dell'individuo all'interno dei gruppi ha generato una crescita della produttività pari all'11% rispetto alla produttività dei gruppi che invece hanno puntato soltanto sul coordinamento. Quindi, diciamo, gli autori propongono questa questa doppia strategia. La doppia strategia è basata in una prima fase nella quale i leaders devono incoraggiare gli individui a fare un reskilling dei loro task e quindi acquisire nuove competenze. Questo reskilling non significa che deve essere offerto a maggiore formazione, quanto significa anche, non solo significa che bisogna offrire formazione agli individui, quanto significa anche che bisogna dare tempo agli individui di sperimentare e, diciamo, di diventare padroni loro stessi dei loro nuovi task prima di fare il modo, prima di tentare il coordinamento collettivo. E chiaramente i team che hanno avuto maggiore successo nello studio empirico che è stato analizzato hanno consentito, hanno riconosciuto una, diciamo, più tempo di sperimentazione nei confronti dei membri con, diciamo, una capacità di standardizzare, diciamo, con una capacità appunto di andare nella dimensione individuale. Una volta che i membri del team riescono ad avere, diciamo, delle buone abilità di reskilling, allora è possibile per loro, diciamo, ritornare a produrre collettivamente all'interno, diciamo, di una visione di coordinamento. Quindi la sequenza è molto rilevante, dicono gli autori, per fare in modo che ci sia una crescita della produttività in un contesto di cambiamento tecnologico e, diciamo, questo cambiamento, diciamo, dovrebbe incentivare, appunto, il reskilling. Cosa possiamo dire, diciamo, di questo articolo? Certamente c'è un problema, diciamo, quando noi parliamo di team leadership, perché noi sappiamo, diciamo, che generalmente gli individui, diciamo, tendono a produrre di meno rispetto ai gruppi. Quindi questo è un articolo veramente molto interessante, perché dal mio punto di vista una delle motivazioni per cui gli asiatici non riusciranno mai a produrre le cose che fanno gli occidentali è che gli occidentali hanno una cultura individualista e gli asiatici no. Questo significa che gli occidentali si prendono dei rischi personali che gli asiatici non sono in grado neanche di intendere se non mediati da strutture collettive. E quindi dal mio punto di vista questo articolo è molto interessante, perché ci fa intendere quanto sia rilevante la risposta individuale e lo potremmo allargare, diciamo, da una azienda, da un case study aziendale ad una dimensione sociale, addirittura di civilizzazione, come fanno i gruppi a reagire efficacemente a dei momenti, a delle fasi di cambiamento strutturale, che in questo caso è un cambiamento tecnologico, ecco però se noi generalizzassimo potremmo parlare di cambiamento ambientale, cambiamento politico, cambiamento degli scenari e così via. La soluzione degli autori non è una soluzione imposta normativamente e la conseguenza di uno studio empirico e quindi diciamo la serietà metodologica di un'analisi quantitativa, calcolare, confrontare diversi stili di leadership e vedere se gli stili di leadership che riconoscono valore e capacità agli individui creano dei gruppi maggiormente produttivi rispetto a quegli stili di leadership che invece sono semplicemente orientati alla creazione di coordinamento tra membri di un gruppo. Le autori quindi trovano che lo studio di leadership più efficiente durante una fase di profondo cambiamento tecnologico all'interno di un'azienda è lo studio di leadership che riconosce la dimensione individuale e questi gruppi addirittura arrivano a produrre il 12% in più rispetto agli altri. Perché potremmo chiederci accade questo? Perché quando si lascia spazio agli individui, negli gruppi, nelle società, nelle dimensioni diciamo anche produttive, noi puntiamo sulla capacità delle persone di motivarsi, di mobilitarsi, di trovare delle nuove competenze, di avere nuovo knowledge e quindi anche sulla loro motivazione personale poniamo a delle persone delle sfide e questo può generare socialmente un elemento positivo. Che significa? Significa che all'interno di un gruppo se ci sono degli individui che sono molto impegnati nell'acquisire delle nuove conoscenze per padroneggiare delle nuove tecnologie. È chiaro che anche gli altri membri del gruppo cercheranno di fare altrettanto perché si sviluppa un processo di tipo imitativo perché la persona che magari sta acquisendo nuove tecnologie acquisisce una maggiore professionalità e in un contesto lavorativo una maggiore professionalità significa maggiore credibilità e la credibilità in un contesto di impresa è un bene socialmente rispettato che potrebbe aprire addirittura delle opportunità di carriera o avanzamenti in termini reddituali e questo significa che gli altri membri del gruppo potrebbero convergere su questi medesimi comportamenti virtuosi ovviamente non seguendo pedissequamente il percorso tecnico professionale di altri quanto piuttosto nelle proprie competenze rivisitando le metodologie le determinazioni dell'innovazione tecnologica e quindi quel comportamento che sembra individuale per le dinamiche che sono proprio tipiche della dimensione sociale diventa in realtà un comportamento sociale diventa in realtà un comportamento gruppale cioè il comportamento individuale non è mai realmente individuale in questo caso offre anche l'esempio la testimonianza diciamo offre il modello per altri che magari attraverso forme di imitazione e rivisitazione possono diciamo acquisire anche loro nuove tecnologie e quindi paradossalmente in questo tipo di gruppi si crea una regola sociale cioè quello che sembra una dimensione individuale in realtà si traduce in una dimensione sociale al contrario negli altri gruppi dove invece non leader non guarda gli individui guarda soltanto la capacità di coordinamento e quindi dice questo gruppo funziona perché un gruppo coeso ok però magari le persone di quel gruppo non stanno dando il maglio di sé non stanno impegnandosi così tanto per migliorare nelle proprie performance nelle proprie abilità nelle proprie capacità semplicemente sembra che si coordinano però se non migliorano individualmente il contenuto del loro valore lavoro dal punto di vista tecnico professionale potrebbe essere anche declinante o potrebbe essere anche diciamo privo della capacità di cogliere le sfide dell'innovazione tecnologica ecco che questo esempio ci offre un caso di come l'individualismo sia veramente stato spesso molto sottovalutato soprattutto qui adesso voglio diciamo generalizzare voglio uscire dal case study quindi faccio i miei complimenti agli autori perché questo mi sembra veramente un ottimo articolo del resto abbiamo detto che mitt sloan management review qui parliamo diciamo di di riviste di altissimo livello però voglio generalizzare diciamo andando oltre la dimensione sociale noi sappiamo che l'individualismo è stato spesso criticato c'è stato un tempo c'è stato un periodo in cui gli economisti guardavano positivamente l'individualismo adam smith per esempio adam smith la virtù economica è la virtù del comportamento auto interessato sono poi venuti tempi invece dopo dove l'individualismo è stato considerato negativamente perché il comportamento auto interessato sarebbe antisociale perché un individuo diciamo che ripiegato su se stesso e auto interessato non riuscirebbe a mantenere vive quelle istituzioni della società che si ritengono essere assolutamente necessari il partito la famiglia la chiesa lo stato la nazione la comunità la società se un individuo è un individuo e allora non non si riconoscerà in queste regole sociali poi però se andiamo a vedere che cosa fanno questi individui occidentali noi vediamo che la cultura dell'individualismo nell'occidente quando è stata associata alla sua dimensione etica perché esiste un'etica dell'individualismo che è quello di farsi carico della propria vita dei propri problemi della propria dimensione individuale totalmente e non chiedere l'assistenza di tizio edicaio di sempronio se non quando assolutamente strettamente necessario questa è la grandezza dell'individualismo e quindi il carico di lavoro di produttività di studio di generazione di valore di un individuo occidentale è assolutamente imparagonabile con medesime misure degli asiatici per esempio o con medesime misure di altri periodi storici cioè quello che una persona un individuo occidentale mediamente fa nella propria esistenza è un'opera enorme probabilmente le persone non si rendono conto di che cosa significa questa dimensione certo a questo hanno contribuito tante culture adesso non voglio non voglio dire che questo è un merito della scienza economica perché non è così perché l'individualismo è un prodotto della cultura occidentale di tutta la cultura occidentale da addirittura quella pre cristiana perché c'è un'attenzione dell'occidente a liberarsi dalla comunità che nasce già con gli eroi quindi noi non dobbiamo criticare eccessivamente l'individualismo perché se veramente se noi facessimo soltanto un gioco sociale e confrontassimo i 350 milioni di americani con i 500 600 milioni di europei facciamo 950 milioni mettiamo un miliardo di persone se ci confrontiamo nella dimensione sociale con i cinesi e gli indiani non ce la facciamo ovviamente non ce la facciamo e nel futuro non ce la facciamo con gli africani perché gli africani crescono demograficamente e noi no quindi se il punto è confrontare società con società nell'aggregato l'occidente è spacciato l'occidente è sempre stato spacciato perché l'area dell'europa è stata sempre sottopopolata rispetto ad altre aree insomma in india in cina c'è una città enormi quando al massimo in europa con 200 mila abitanti si erano create delle grandi città la vittoria quindi dell'individualismo nell'occidente è la vittoria dell'occidente questo dovrebbero capirlo in tanti e attenzione che individualismo è anche diritti della persona libertà della persona inviolabilità della persona principio secondo il quale noi riteniamo che non che non esista possibilità di danneggiare la persona che la persona sia il valore più alto non ci sono motivazioni sociali che possono dominare sul benessere individuale noi crediamo questo almeno fino a poco tempo fa si credeva questo oggi ci sono strane visioni in nel mondo occidentale però questa era la cultura occidentale diciamo fino all'essenza della cultura occidentale e lo vediamo anche nella produttività è ovvio prendiamo un individuo che fa due tre lavori che studia che ha una famiglia quanto valore produce nella società è facile è facile fare il calcolo è facile capirlo quando noi liberiamo l'individuo è chiaro ci vuole una dimensione etica ci vuole una dimensione etica però è quell'etica che poi è riconosciuta la cultura occidentale quindi io veramente sono assolutamente d'accordo con questo articolo ritengo che diciamo questo case study sia molto molto rilevante e diciamo sono assolutamente convinto che le aziende se vogliono le aziende e le società in senso altro però ecco portiamo dalle aziende le aziende se vogliono migliorare le proprie condizioni produttive devono puntare sull'individuo prima dei gruppi ed essere sempre attenti che non ci sia contraddizione tra gruppi ed individui e quando c'è una contraddizione tra gruppi ed individui va risolta nel senso dell'individuo perché è l'individuo che va a salvare la persona che va salvata all'interno della struttura organizzativa e poi va a largo questo discorso a livello sociale e così anche per le società molto probabilmente sì le società che hanno la capacità di liberare l'individuo le persone individualmente definite hanno capacità produttive enormemente superiori alle altre e devono però essere società che sono in grado di difendere gli individui da ogni regola sociale scritta non scritta formale informale legale sommersa perché l'individuo è l'ente uno degli enti costitutivi del mondo occidentale e della sua produttività perché non c'è mai stata una crescita della produttività nel mondo così grande come si è avuta nella crescita dell'evoluzione occidentale